Incassano un brutto colpo i lavoratori della GS di Porcari, in agitazione dagli inizi di luglio per il mancato conferimento di alcuni stipendi dei mesi scorsi. Dopo una settimana di ferie forzate, si sarebbe dovuto tenere l'incontro a Palazzo Ducale con l'assessore Rovai, la CGL, il comune di Porcari e l'azienda per cercare di trovare una soluzione e iniziare l'eventuale procedura per accedere alla casa integrazione. Sconforto e amarezza per i dipendenti della GS quando hanno appurato che l'azienda non si era presentata all'incontro, lasciando i lavoratori nella più completa incertezza sul futuro. La GS ha comunicato tramite fax l'intenzione di rimandare l'incontro, ma senza proporre date. I lavoratori domani, finite le ferie forzate, dovranno presentarsi al lavoro, dove però è probabile che non possano svolgere le proprie mansioni. Alcuni macchinari, ci raccontano, sono stati infatti portati via. L'incontro previsto per oggi quindi avrebbe dovuto dare le dovute certezze ai dipendenti sull'eventuale casa integrazione che avrebbe garantito un minimo di sostegno economico. Noi andremo avanti comunque con le azioni legali e quindi effettueremo le ingiunzioni perché non sono stati fatti fronte ai pagamenti dei mesi trascorsi. Io trovo che il comportamento dell'azienda è poco responsabile perché stanno lasciando senza tutela e senza garanzia di stipendio 60 circa lavoratori. Stamattina potevano firmare una casa integrazione in modo da dargli un minimo di copertura, alcuni potevano andare a sospendere mutui in banca visto che non sanno come far fronte alle rate e invece non presentandosi rimangono senza stipendio, senza tutela.